Pillola numero 3 dei grandi del marketing applicati nel mondo assicurativo. Oggi parliamo di quello che per me è un mito, Seth Godin, l'autore della Mucca Viola, forse è il libro che ha dato veramente la traccia tra il vecchio marketing e il marketing moderno. Seth Godin dice sempre una cosa che è fondamentale, non vendete prodotti o servizi, i clienti non acquistano prodotti o servizi, i clienti acquistano storie, acquistano relazioni, acquistano magia. Questo è fondamentale, è fondamentale il nostro lavoro. Ecco perché il 95% dei post che vedete non funzionano nel mondo assicurativo, perché si parla di prodotto, si parla della nuova polizia della casa modulare, vi dicendo, la polizia infortunio completa, la LTC, si parla di prodotto, il cliente non acquista quello. Lo sapete benissimo. Se voi mandate un messaggio, un'email a 100 clienti dicendo ecco la polizia della casa, non la venderete. Se invece fate 100 trattativi in una certa maniera, quindi create una relazione, create un desiderio, la risposta è più alta. Ok? Quello che dobbiamo fare, dobbiamo concentrarci su quello. Quindi, come abbiamo già visto tantissime volte nel marketing assicurativo, via il prodotto, via il posto della compagnia, dove dicono quanto siamo belli, quanto siamo bravi, la gente non acquista quello. Dobbiamo investire sulle relazioni, è il nostro lavoro intermediario, vive di relazioni. Il nostro lavoro, abbiamo detto molte volte, è la relazione. Storie, magia. Cosa sono le storie e la magia nel campo assicurativo? È la soluzione, è l'aiuto quando capita qualcosa. Ricordiamoci, noi non preveniamo niente, noi non siamo l'ombrello che preveniamo, no, no. Noi non siamo l'ombrello che previene dalla pioggia, noi siamo l'abito nuovo che si bagna dopo la pioggia, noi siamo la soluzione quando è venuto fuori già il problema. Ecco, noi dobbiamo vendere, essere capaci di vendere, di concretizzare questo nella mente del cliente, perché la gente è quello che vuole. Se noi riusciamo a fare questa differenza, avremo anche la differenza sulla produzione, perché la gente acquista questo. Spero che vi interessino queste pillole, mettete sempre mi piace e seguiteci per tutte le altre pillole. Seguitele, sono importanti, lo dicono i grandi del marketing in tutto il settore. Come abbiamo spesso detto, vanno applicati anche al nostro settore quotidianamente nelle nostre agenzie. Solo così possiamo fare la differenza e la possiamo fare. Ciao.